ciao bimbi io sono la maestra fede e sono qui per raccontarvi come sarà il nostro ritorno a scuola sarà sicuramente qualcosa di speciale qui saluteremo la mamma e il papà loro li lasciamo in giardino e noi possiamo entrare a scuola vieni con me andiamo come prima cosa ci disinfettiamo le mani poi mi dai il tuo cappottino e le scarpine che usiamo quando siamo fuori apriamo l'armadietto mettiamo via il cappottino e le scarpine ma quando siamo qui a scuola che scarpine usiamo eccole qui li tiriamo fuori dal sacchettino e le indossiamo ora ci disinfettiamo di nuovo le mani e poi possiamo entrare in classe eccoci davanti alla nostra classe ora vedremo i nostri amici e le maestre ricordiamoci che per salutare lo facciamo con la marina ciao ehi bimbi ma cosa sono questi simbolini qui per terra loro sono degli animaletti che ci indicano dove stare seduti per giocare tu ti puoi sedere qui loro ci indicano come stare qui a giocare a terra però altri animaletti ci dicono anche come stare seduti al tavolo per giocare e per fare altre attività anche quando veniamo in palestra per fare musica il nostro circle time sarà segnato con i nostri simboli animali per metterci in fila usaremo una corda ognuno avrà il suo contrassegno vieni in fila dove vedi il tuo contrassegno prendi la corda in mano ecco fatta la nostra fila quando veniamo in bagno come prima cosa ci laviamo le mani e come ultima cosa prima di tornare in fila ci disinfettiamo le mani possiamo andare quando arriviamo in mensa ci disinfettiamo le mani poi ci sediamo al nostro posto e quando finiamo di mangiare la maestra butterà via il vostro babaglino e ci disinfettiamo le mani per rimetterci in fila quando veniamo in palestra per fare la nanna ogni ogni bimbo avrà il suo sacchettino di plastica con la cerniera mi raccomando il nome e il cognome sopra il sacchettino e dentro ci sarà il lenzuolino la copertina un giochino che si può lavare e se abbiamo bisogno il ciuccio in una scatolina finita la nanna rimettiamo tutto a posto e chiudiamo la cerniera è ora di tornare a casa apriamo l'armadietto prendiamo le scarpine per uscire e il cappuccino togliamo le scarpine della scuola le rimettiamo nel sacchettino ci mettiamo le scarpine per uscire il cappotto e ci avviciniamo alla porta della scuola qui incontriamo mamma e papà noi ci vediamo domani ciao bimbi ricordatevi che a settembre le maestre avranno una mascherina saremo sempre noi ma un po' diverse